Prendi un conduttore e poi musicisti, politici, medici, cantautori, attori, comici e mettili insieme a tambur battente e ad ogni puntata aggiungi musica, cultura, costume, spettacolo, ironia e tanti nuovi ospiti nazionali e internazionali. Accendi la tv e... gusta! A tambur battente show, non il solito tam-tam. A tambur battente per me, numero uno!